Vedere la vera faccia del potere e come viene esercitato fa orrore. Parole di Andrea Crisanti dopo la messa in onda nella trasmissione Report di lunedì sera di un servizio sulla gestione dell'emergenza Covid in Veneto. Nel servizio erano rivelate anche le intercettazioni legate all'inchiesta avviata dalla Procura di Padova nelle quali il governatore Luca Zaia diceva di lui stiamo per portarlo allo schianto durante una discussione con il direttore di Azienda Zero. Intercettazioni che per Crisanti metterebbero in evidenza il coinvolgimento diretto del governatore Zaia nell'aver orchestrato una campagna denigratoria nei suoi confronti per arrivare a un provvedimento disciplinare. Parole pesanti che il docente dimissionario dall'Università di Padova con una PEC formalizzata l'ultimo dell'anno proferisce in una serie di interviste rilasciate alla stampa veneta e nazionale. Ma quel che ha colpito maggiormente la politica regionale è questa frase di Crisanti. Io penso che sia giunto il momento di farsi delle domande e denunciare il clima di intimidazione a cui in Veneto è sottoposto chiunque non sia allineato con la narrativa della regione.